Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico e fare attenzione per pioggia forte tra Chiusi, Chianciano e Orvieto. In A11 l'area di servizio di Serravalle e Sud in direzione Firenze è sprovvista di GPL. Sulla FIPILI, personale su strada per lavori tra Ponte della Est e Montopoli-Valdarno in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori di manutenzione tra lo svincolo di Bargino e quello di Tavarnelle in direzione Siena. Sulla statale Trevis-Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Verghereto e Canili. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!